Sabato 21 giugno, dalle ore 20 e 30, in esclusiva per tutti i clienti Sky, Carmen, di Bizet. Presenta Silvia Corbetta con la partecipazione straordinaria di Elio. Sabato 21 giugno, in diretta dall'Arena di Verona, Carmen, dalle ore 20 e 30. Classica, Canale 138. Musica per i tuoi occhi. Grazie.